Questa non la indovinerai mai Ciao a tutti ragazzi, allora Oggi siamo in compagnia della mia ragazza Ciao Di come ti chiami, di qualcosa L'aria L'aria Mi raccomando, non stalkeratela Perché io sono veramente geloso, sono siciliano Mi specco, mi spacco Oggi facciamo la post-it challenge Non c'è lungo, perché? Perché non c'è lungo? Eh, perché oggi sei quell'amante Giusto Quando Lungo è in vacanza Eh, è giusto Quando il gatto non c'è I cricetti fanno ciò 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 Sì Ok Allora, Lungo non c'è perché? Perché è andato a fare una vacanza lavorativa Dici, chiamiamola così Infatti lui è lì per lavoro Ma intanto ha un po' di tempo per sbagarsi Vi ho mandato un paio di foto Ma quindi ve le faccio vedere Qua Lungo sta per tuffarsi in piscina Lungo che prende il sole Lungo che nuota Che fisichino Mmm, da farvi invidia Ed ecco Lungo che fa immersione Dopo queste bellissime immagini Che sicuramente gli hanno suscitato Tanti interesse Per l'apparato maschile di Lungo Direi che possiamo partire con la post-it challenge Allora, in pratica Sapete già come funziona Perché sicuramente l'avrete già vista Viveremo sopra dei post-it dei nomi E attaccheremo sulla testa e sul culo Vede, la facciamo pure Esatto, me lo sono detto da solo E praticamente con questi nomi Lei dovrà cercare di dominare Oh, ma sei scemo No, io lo rogo Ti piacciono gli unicorni? No, mi piacciono gli unicorni E chi vince? Chi vince, tira uno schiaffo all'altro Ci stai E tu vincerei Sei? Sì Ma chiudo gli occhi e mettimelo su Aspetta Ah, ma solo tu chiudi gli occhi? No, poi te lo metto a te Ah, io stavo chiudendo gli occhi Intanto toccavo la tua pronta Aia Allora, inizi tu con le domande Visto che sei la ragazza E quindi Sono gentile È un maschio o una femmina? È una femmina È un maschio o una femmina? È una femmina È bionda? Non lo so Come non lo so? Non lo so se è bionda Penso che adesso sia bionda Come penso che adesso? Sì, sì, bionda Stai gelosendo pensando che pensavo fosse lei No, si pare Fa video su YouTube? Sì Fa video su YouTube? Sì Ma vuoi vedere che mi ha scritto la stessa cosa? Vive in Italia? Cioè, praticamente no Vive a New York? Sì È Clio È già beccato Non è giusto Così, per me Attaccalo sulla sita Aia Ha dei cani? No È un maschio o una femmina? Maschio È fidanzata? Scusate Fa video su YouTube? Sì Sì, ma comunque la mia faccia non si vedrà questo cosa davanti Cioè Ehi, fa niente Sei carina anche così Tranquilla Aia Miglia, io ci andavo piano E tu prima mi hai fatto male No No, che fai Dammi un bacio Ma io non li conosco quelli che segui te Come faccio? Io ho fatto facile Tolito mi fai vedere Pepper Chocolate Non è sposata? Dai, non lo so Chi è? Clio Makeup È lei? Ma non ci credo Ma va Vaffanculo Io non pensavo Lo attacco Sulla tetta E qua Ok Aia Maschio? Sì, lo conosco Sì Fa video su YouTube? No È cappellone? Sì Facendo mirare È jaser Ma che palle Ma io te le sto facendo facce Avrei potuto anche dire Ah, uno sciamme di ragazzine che lo seguono Oh Pesante Vabbè, è buon per lui, no? È caduto il colpo dei posti Non è più famiglia Beh, io ho avuto l'onore di preparare la pasta jaser Dovrei proprio essere gelosa Minchia, adesso sì che eroticano Io ho fatto le piadine a tutte e due Quindi qua Sto perdendo e devo recuperare Quindi adesso una davvero difficile Più ti gli occhi Questa non la indovinerai mai Mmm, what you say? Allora Minchia, tu la tua Che cosa riva Eh, va bene Perché questa qua davvero non la potrei mai indovinare Ti ho chiesto se era un maschio Non fa video su YouTube È un attore È un maschio? Sì Pensato Hai domandato cos'è? No Mezzo a mezzo No, no, è un maschio a tutti gli effetti Lo conosco? In termini di persona? Sì Di persona no, lo vedi però Fa video su YouTube? Spero di no No Perché? No È un cantante, è un musicista Se vuole qualcosa non lo so Ti dico cantante sì È un musicista vuol dire che è anche canta Eh, vabbè, un musicista è piuttosto Vabbè, è proprio vero che le bionde sono stupide Ma quelle... Ma adesso me lo paghi questo È un qualcosa Sì Tu hai la mani di disegnare solo prindice Non può essere che mi hai messo questo No È famoso? Sì Cazzo è? È duro Dipende Ma allora l'ho detto prima Che cosa? Che era Che era? Eh Cosa? Membro maschile Te l'ho detto prima Ma sai che è stato tutto il tempo con il pene disegnato sulla fronte? Un macchisee È imbattibile, cioè pure quella è indovinata Ma è che io ho la passione di disegnare i peni? Te l'ho detto prima Eh, ho fatto finta che non era così Ma perché me lo stai dando a me che devi disegnare te? Ah, è vero Ok, questa non l'ha indovinata Egoi, hai visto? Non l'ho visto, te lo giuro Ti faccio anche il bambino È un cantante italiano? Sì È quello di The Colors? No Minchia, ho già capito chi è Maschio e femmina? Ehm, no Cosa no? Eh, non ha sesso Ma perché è una di... Eh, cioè, non credo Eh, è una domanda per volta, scusa, eh Cioè, prima fai la saputella e un turno a testa Uno, due, tre Uno, oh, oh Un macchisee È Lorenzo Fragola? No, è una serie di vento No Ha vinto qualcosa in particolare? Sì È duro No, perché tu ce l'hai fissa con le cose tue? Perché se è una cosa morbida capisco che è... No, va, gelatino Se è duro capisco che... Potrei chiedere anche se era morbido Vabbè, è morbido? No Ma hai detto che era duro Eh, non è neanche morbido Non è larga, se non ha... Ha detto che è giovane quindi, no? Prima hai detto così Non ho detto che è duro Contemporaneo? Ah, sì Non ho detto contemporaneo Se non fermo No Vasco rossi No Meno male, non ero vasco rossi perché l'avete in testa mi faceva un po'... Eh, non ti lamentare, ho in testa un peggio Sì Detto così poi... È rosso? No Mi sta cadendo L'hai visto? No Sì No, non lo vedo È in colore? Sì È l'acqua? No Eh, non mi viene in mente ne so... Cioè, posso arrendermi? Vabbè fammi... Abbrami questa Ti dà l'aiuto? Dai, aiutami Lo odi Sassa, sapore non mi dire che c'è moreno sulla mia testa ma non posso metterlo qua ve lo metto sul culo ve lo metto no lo vado a blu io perchè sennò sembro gay ma fa meno un po' più facile è un maschio? si tocca a te che ancora l'ho indovinata sfigata l'acqua ho già detto è un attore? cioè appare in tv sbaglia vedo in difficoltà conduce un programma televisivo? si trova in casa cava volevo chiederti se per caso ha meno di 30 anni ok è in colore se non è l'acqua cos'è? è un personaggio che mi piace non so perchè per me non so perchè ho detto non che per me è così? spostati un secondo fai vedere jaser è un pene no che c'è? l'hai guardato? no 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 perchè tu l'hai letta no no l'hai letto che fede no non hai vinto mi dispiace ho vinto no erafel oh oddio l'ho indovinato no ma non bisogna imbrogliare in queste cose non l'hai imbrogliato infatti si basta ho vinto no siamo a ricordati che c'è ancora Moreno no Moreno non è neanche questo l'hai indovinato no l'hai indovinato ma non è il cavolo questo è mio scusa facciamo i contenti bambini qua che cercano di vincere così in questa maniera no allora la sfida è finita facciamo che ha vinto ah certo facciamo cioè si è notato nettamente che io sono più forte però vabbè come una ragazza sapete come funziona allora lì l'abbiamo vinta quindi ci dovrò uno schiaffino MICHA LA FACCIA CHE DA PIANO se volete altre sfide con me mettete un like lasciate un commento ho la sister ho la sister saluto